Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Saper edificare. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale youtube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna saper agire nella maniera migliore per poter creare qualcosa di positivo, edificare qualcosa creando con saggia passione un percorso vitale ricco di cose positive. Bisogna quindi edificare un mondo infondendo degna sapienza perché la sapienza racchiude qualità che ci fanno crescere e creare un mondo più fecondo e ricco di gioviale perseveranza. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Saper edificare. Bisogna saper agire nella maniera migliore per poter edificare creando con saggia passione. Bisogna edificare un mondo infondendo degna sapienza per renderlo più fecondo della gioviale perseveranza. Bisogna rendere al meglio e nella vita donare attenzione ad ogni piccolo accorgimento che faccia crescere il rendimento eccellentemente. Sapere edificare con sapienza creando degna coesione tra saggezza e perseveranza per ottenere solenne unione. Grazie e spero la condividete a tutti. Arrivederci.